ciao a tutti ragazzi e benvenuti alla nuova puntata della towncraft il mio nome come sempre qui tu a no wait e oggi sono qui con il signor marcus cron che è qui ciao ragazzi no scusa mi sono perso dove sono è lui o non è lui più topolino che mai e ti aspetta in edicola ho paura non ho capito e poi so io quello delle pasticche io è bene ma te le compri beh ragazzi io sto a casetta nostra e non farò assolutamente nient'altro ti farò qui esatto perché lui sta facendo le cose per la farm per il grano eccetera eccetera mentre io invece mi metto qua a scavare perché voglio trovare del cazzo di diamante io non so che voglia che voglia come faccia ma va bene lo stesso li vogliamo bene anche così quindi questo sarà un talk show in due manfredi parliamo della fregna che è sempre un ottimo va bene cioè io guardano non saprei perché dicono che su youtube non si può parlare youtuber non devi parlare della fregna ma è così bella pensavo di darle un appellativo un po più carino nel senso per non per non essere troppo volgari ma pensavo la figa però o la sniacchera la sniacchera la sniacchera è un ottimo argomento a me piace molto la sniacchera che mi ricorda l'onomatopeica del del suono è vero è molto è una cosa molto americana questo che cosa vuoi parlare della sniacchera edoardo qual è la sua sniacchera ideale la mia sniacchera ideale non è completamente glabra pensi a un ciuffo tu sei abbastanza vecchio per ricordarle alcuni avranno bisogno di google googleare ricordi quei buvazzetti che negli anni 90 andavano molto come portachiavi i gremlins si ora un pochino più rasato soltanto poco sopra e tutto il resto privo di praticamente praticamente tu vuoi una una barba da fila fregna si incontrava sopra perché sotto non deve dar fastidio per ovvi motivi e per il genere personale ma sopra sto ciuffettino le dà l'acconciatura che tu puoi spostarla a sinistra chi può mettere un po di gel cioè è carino ce lo pettini puoi fargli la pettinatura all'adolf hitler ma perché signore qualcuno mi disegni una sniacchera adolf per piacere immediatamente vado subito su pain voglio un disegno di una sniacchera adolf e questo tipo la mia a me piace glabra tutta glabra pedofilia unica via no non pedofilia dai è pedofilia semplicemente che mi da un po fa mi danno un po fastidio i peli dopo un po non so se deve stare sopra no sotto perché se l'ombra rimane il bocco a me fa schifo senti poi ritornate al discorso della nei a che cazzo serve io non so mi ricordo la risai per il dispenser touch perché c'è una risai per il dispensa certo si credo si grazie a minecraft crafting ma lo sto facendo due ore che metto sto cazzo di cobblestone hai messo della cobblestone o hai messo qualcos'altro ah no 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 ok posso fare un dispenser adesso minecraft dice adesso va bene ma io non ce l'abbiamo ferro vedo io ne ho 16 qua sotto oh caspiterino quanto me ne servirebbe vai che te lo porto caspiterino no 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 tanto io non ho problemi ma io sono perso quindi scavo in su uscire da qualche parte tipo sotto casa lost in acquittolo ma anche perché devo tornare a prendere da mangiare questo si vabbè se allora si vede costretto a tornare si anche perché mi sembra di aver esplorato tutta questa zona e non aver trovato una sceppola da minchia un cazzo di niente signore non abbiamo trovato un cazzo di niente nulla non c'è l'invento di twix il mondo è triste il mondo è un posto triste stronzissimi che si avvicinano a casa probabilmente vogliono vendermi il folletto ne vada non mi interessa ma guarda che glielo vendo c'è anche c'è anche la testina a dildo la testina a dildo allora lo compro 22 può alzare la potenza di risucchio io vedo un edo che sta uscendo dalla grotta e trova il venditore di folletto a cui facciamo un non vogliamo venditore di folletto nope vuoi dormire io non posso terminare questa sessione senza aver perché ci sono due witch non una due due witch 2 di fia una di fianco all'altra come le vecchie comare di merda ma quest'anno che si guarda guarda dietro la fontana dietro la fontana è vero c'è anche un ragno provo a granne soltanto una vediamo ehi ehi no no hanno preso in mano delle boccette si stanno drogando secondo me o merda pinno pinno io non posso correre ok lei è morta uccisa parlare delle nostre tattiche di accettamento aia cosa sta succedendo veleno 26 secondi di veleno oh my god e c'è anche un bellissimo creeper sono morto sono morto no non sono morto tu devi vedere la mia barra della vita in questo momento non ho cibo e ho un mezzo cuore ah vabbè a normal non dovresti morire salvo prendere danni fatemi via non morire chissà se c'è qualcosa che ti posso lanciare no no mi è passato il veleno ok ce l'abbiamo roba da mangiare no vero sì qui c'è un grano uno solo però cosa possiamo fare con un grano per fare un albero ci vuole un grano per fare un grano ci vuol granaio che cazzo ti sei fumato l'altra sera no 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 ci abbiamo due pani cioè due grani due gran tuggiani e se io adesso trovassi il cacao smaravigliavo eccolo qui ti faccio dei biscuits oh gg tieni gg e la cremeria è lasciata col total biscuits è verissimo che mi hai messo a coquere il ferrozzo dentro una fornace piena no no sto cercando di salvarmi la vita no vabbè queste non sono le giuste priorità adesso è a coquere il ferrozzo visto che se tu sei quello preciso però io ogni tanto c'ho dei raptus incredibili mi fai una cortesia si blocchi strumenti e tutto il resto blocchi che puoi considerare preziosi ok blocchi strumenti tipo spade fence campoder e qua roba preziosa lingotti glowstone schiali di lava ok perché tipo se no mi parte l'embolo incredibile quando quando cerchi le cose e io non trovo un cazzo neanche nei posti ordinati ti posso capire ti posso capire del nether quartz a carbone redstone la redstone la mettiamo qua e anche i lapis lazuli anche le dempurle i lapis lazuli fonghi ma poi in realtà ci sarebbe anche da fare la chest delle cose naturali un po' la pillola del giorno dopo esatto ma io che cazzo devo fare volevo dire ah si perché ho cambiato obiettivo in 5 minuti adesso sto andando a fare la farm di bold e non sto scherzando io continuo ad avere mezzo cuore perché non mi sono bastati biscotti come non ti sono bastati? aspetta forse c'è qualcosa che puoi ciotola no ciotola ciotola funghi e funghi mi rilasci uno e uno di ogni tipo? certamente grazie gara perché lanci i funghi per terra? così tu puoi prenderteli ti servono e io mangio questa e poi rimasto più ragazzi le ciotole sotto? ok e sopra vabbè sì vabbè voglio far precisare le ciotole sono nel ripiano sotto la cena è dentro al freezer ma questi fiori bianchi? quali fiori bianchi? la margherita sono rebondi fanno tintura grigio chiara sono rebondi proprio forte sì sono margherita e fanno della tintura grigio chiara questo invece è della sperula e la sperula fa dell'altra tintura grigio chiara cioè sono dei praticamente inutili esatto si inutilizzano da soli io sto cercando una grotta per una grotta un pollo ma prendilo prendilo due polli è buono è buono tre polli è buonissimo è un uovo anche l'uovo è buono non discriminare gli uovi gli uovi gli uovi io qua sento uno zombie ahà sta zombando ho trovato ho trovato una grotta interessante porca puttana porca puttana cosa è successo? io 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 firmo non veni verso casa ho aperto la porta e davanti casa c'era un creeper davanti la porta io ce l'ho ce l'ho davanti la porta mi guarda le posso parlare del nostro signore boom boom no cioè mi sono cagato sotto fortunatamente ho fatto tre quattro salti all'indietro e sono uscito sulla sua area ti esplode e ti spacco casa adesso sto facendo il giro già a me hai dato fuoco a casa vieni qua creeper di merda tu che cazzo sei venuto dove cazzo sei venuto qua sotto c'è un enderman vieni qui buttati dentro l'acqua vai ah direi che questa grotta comunque può essere considerata buona se c'è dentro un enderman ah ma tu hai trovato un grottolo? si un tigrottolo ah anche un tigrottolo e un tigrattolo molto bene e un sacco di per fare un quicolo ci vuole un tigrottolo per fare un tigrottolo ci vuole un tigrattolo per fare un tigrattolo merda c'è un creeper non mi guardare minchia oddio c'è un mini c'è un mini zombie come no io li odio mi fanno schifo l'ho appena ucciso con un creeper mi inquietano tantissimo vai tranquillo l'ho appena fatto saltare in aria con un creeper aspetta questa me la devi spiegare stavano arrivando tutti e due ho tirato un colpo al creeper il creeper è esploso la fine del cazzo ce n'è un altro ma che cazzo che cazzo hanno figliato qua dentro ma hanno figliato qua dentro i mini zombie ce n'è un altro ma che cazzo ce n'è un altro ancora sento il suo olezzo suo olezzo lezzo lezzo olezzo lezzo ok allora qua finisce e non è molto profonda però di là va avanti io ho timore è successo qualcosa di inaspettato vedo cioè volevo spostare i polli ok si e niente ho usato un secchiello d'acqua per farlo ho posato il secchiello d'acqua sul sul pollo e il pollo è morto perché l'hai negato hanno rimasto parecchio traumatizzato no ma è morto subito instant proprio tipo acqua oh mio dio non mi lavo da settimane non lo so ho paura di ho paura di comprenderci qualcosa non innaffiarmi stupido marco strana oh ma qua ci sono suspense ci sono ci sono allora sento i rumori di un mini zombie ma non c'è il mini zombie e io ho esplodato tutta sta caverna oh my godness quindi quindi sono ci rimango male capito perché ci sono anche i suoni dell'acqua e non trovo l'acqua mmm murble murble la caverna deludente è molto deludente ah l'ho trovata l'ho trovata l'ho trovata e ho trovato una caverna che va ancora più giù fantastico sono fortissimo però funziona yeah preparati cosa hai combinato perché oh oh mi ha tirato una laggata ma rimandato indietro a quello che dovevo far prima ritorno al futuro ritorno al passato remoto ritorno all'altra passata quindi dov'è sto cosino di merda è lì è lì con un creeper io direi facciamo la stessa cosa che facevamo di solito facciamo esplodere il creeper questa comunque è tutta un'altra caverna è tutta un'altra caverna a me piace ogni tanto esplorare così ma le caverne sono belline sono una grossa delusione no zio tu non hai visto ma è esploso il creeper ok ha fatto male anche a me ma praticamente a me mi è volato addosso la testa di un mini zombie che moriva proiettato dal creeper con un altro mini zombie con un altro creeper sei un super pro uccisore di mini zombie con ce ne sono quattro tipo qua ce ne erano quattro in sta cazzo di caverna di merda daie allora ce la posso fare mi son già rotto il cazzo mi sono fratto quasi coglioni allora anche a me sembra di salire sempre di più in sta caverna com'è possibile sento il rumore di slime dei rumori di scheletri rumori di ragni ah lo slime no lo slime ci servirebbe tantissimissimissimo e poi che dove cerco lo slime davvero tanto va bene andiamo a cercarti lo slime ma proprio tantissimo proprio super tanto cose che ti possono servire più del diamante dalla caverna no guarda dalla caverna probabilmente soltanto lo slime perché ci ci fa fare il coso la fune per gli animali ah veramente c'è la fune per gli animali yap li prendi a lazzo a lazzo si funziona a cazzo di cane come tutte le cose che fa la mojang però è utile vai in giro trovi una mucca molto lontana ah bene te la trascini la caverna è sopra di me fantastico sai che non ho visto cavalli quando non parli mi preoccupo è che la caverna è sopra di me c'è uno schietro che mi guarda dal buco e fa oh hi hi mi state aspettando ok ora saliamo di qua quindi quindi va bene salve vi prego vi prego non mi venite a salutare tutti assieme grazie oh no anche questa volta non ci vogliono far salutare oddio un altro ammazza il carbone che hai trovato grange grange ancora di più grange te lo porti in caverna e beh l'ho trovato adesso grange minchia un altro un ragno uno scheletro un ragno un serpente un scopione una zanzara se faccio la spia io posso preparare non è così uff 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 signori beh la slime non l'ho ancora trovata però ho ucciso mezzomodo dovresti riconoscere quel posto ah ti vedo salire ammazza no stai lontano eh si poi stupido zombie e ho anche quattro cuori tipo c'è uno scheletro merda ma tipo anche quest'altra cosa oh merda 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 aspetta casa nostra è circondata da stronzi perché non posso dormire uuu scheletro becchio ho doggiato la freccia e l'ho ucciso in salto smettila di fare il pro a minecraft non è CS ti chiedo troppo se esci e rientri velocemente perché casa sta diventando sempre più un puttanaio di mob si si e ho molto paura e adesso ma se esco e rientro ah perché vuoi dormire vuoi dormire no 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 faccio così guarda chi lol e poi ammazza anche me eh e poi ammazza anche me no 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 lol hai detto tu scrivi lol no ho detto kill lol ah no 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 non baro non baro giuro non baro ha detto che non baro non mi tentare dai manfredi non mi tentare hai messo la mattina no no avresti visto il messaggio giuro penso da un'altra cosa a dire il vero ma io sono a livello 50 la paura ah no quella è un'altra cosa serve un cazzo quella è 90 la paura davvero paura cioè sono in un livello totalmente inutile salve oh ti voglio bene hai dei biscotti però no pochissimi io 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 hai del mi stai chiedendo se ho della della stone del legno anche della stone la prendo no non hai del legno no tu hai un secchiello ho una torcia hai un secchiello no però ho 13 di ferro ah accidenti però ho 13 di ferro ma qui è pieno di ferro sì sì io lo sto un po' lo stai schifando lo sto schifando un pochettino perché sì perché sto cercando ma no ma povero ferro sto cercando di ascendere questa grotta non fa altro che portarmi verso l'alto beh allora troveresti del qui c'è del aspetta 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 ah scusami sto rincogliendo proprio rincogliendo siamo a livello 50 siamo tipo in altissimo ma che bella grotta cioè nel senso si si dirama in lunghezza sì in bassezza ma in bassezza non ci va in bassezza ritorna indietro ci dai delle torce bravissimo ecco se qui c'è la d'orto mi viene da pensare che basta fare così sì e siamo fuori siamo fuori davvero marcos guarda che storia quanto ti stiamo da casa parecchio oddio sto laggiù ed è pieno di strozzi prendo al volo oh merda no raga ma sono tantissimi sono morto sono tipo morto continua a muoverti continua a muoverti no sono tantissimo eh ma vado lentissimo anch'io perché non ho fame e non ho niente da mangiare ho dato tutto il mio cibattè continua a muoverti no serpentina 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 porca merda a me una spada presto oddio oddio ce la sto facendo no no il ragno no no il ragno no che rumore brutto mi fa schifo il rumore del ragno eh è bruttissimo mi fa venire vedo ci riesci ad arrivare a casa no ma che cazzo ma guarda che non ti esectura davvero è finto vieni a dormire sbrigati 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 non ci voglio più andare caverna marcus l'alpha si si decisamente io ho 12 frecce arrivo aia 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 che non esplodono pronto non esplodono sti gripper sono sfrutti ragazzi ci sono sfrutti i gripper è divertentissimo guarda i buchi che hanno fatto qua si porca merda servono più torce mio signore vabbè io concluderò con questa sessione di registrazione estremamente infruttuosa assolutamente si beh oddio hai trovato un sacco di ferro che però non hai cagato l'hai lasciato là volevo il diamante questa non è una scusa quindi signori io vi ringrazio come al solito per aver seguito questo episodio il mio nome è come sempre qui tono hate ringrazio marcus per baddeke baddeke per avermi aperto la porta mentre mi guardava inseguito da un enorme ragno ciao a tutti ciao adesso sono in rete let's play one wins ciao a tutti ciao a tutti